Buongiorno carissimi, ben trovati in questa undicesima domenica del nostro tempo ordinario il brano del Vangelo che ci viene donato per la nostra vita è quello di Matteo capitolo 9 versetto 36 fino ad arrivare al versetto 8 del capitolo 10 Gesù ha compassione delle forze, si rende conto della necessità e della difficoltà nella quale si trovano e che cosa dà? Parole di speranza perché la Messe è abbondante, quindi lui guarda la ricchezza che c'è nel cuore delle persone guarda che l'umanità è piena di doni, la spiga è piena di grano ma sono pochi gli operai, pregate dunque il padrone della Messe perché mandi operai nella sua Messe siamo anche noi consapevoli che la spiga è piena di grano, la nostra vita è piena di talenti, di doni ci sentiamo anche noi nel campo del mondo come operai nel lavorare alla vigna del Signore siamo noi che nella preghiera comprendiamo di essere operai, di compiere le azioni quelle necessarie e allora la chiamata dei dodici, il Signore chiama ciascuno di noi a fare un'esperienza con Lui ma nel suo tempo siamo chiamati a scacciare, a scacciare ciò che è il male quindi la non consapevolezza di quello che siamo, cioè la non autostima della nostra vita non la preziosità di quello che siamo realmente e allora tutto questo si può fare con gradualità andate prima dalle pecore perdute della casa di Israele prima di andare dai pagari dei samaritani ci sarà il momento nel quale vi invierò dopo che voi avete fatto un'esperienza vera, profonda di quello che significa gratuitamente ricevere, gratuitamente dare quindi la vita è un dono che noi abbiamo ricevuto e la gioia sta nel dare più che nel ricevere allora ecco che il libro dell'Esodo dice al popolo di Israele voi siete la nazione santa voi siete un regno dei sacerdoti il libro della lettera ai Romani lo dice ancora molto chiara che nel momento in cui l'uomo era ancora immerso nel peccato ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi quindi nel momento in cui è difficile nel momento in cui non eravamo proprio lontani dalla via di Dio ecco il Signore, Cristo è morto per noi Lui ha dato la sua vita e ci ha lavati, ci ha arredenti questo sangue versato è il lavaggio della nostra vita ci ha resi i suoi figli innestati nella vita di Cristo noi con l'azione dello Spirito Santo viviamo la nostra figliolanza nella consapevolezza di essere una spiga con il grano essere dono per noi e per gli altri mietere, donare perché quel grano macinato farina e diventa poi un nutrimento il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo ci dice anche il versetto al Vangelo la buona notizia è questa che Dio ci ama e questo amore è stato manifestato in Cristo Gesù e il dono dello Spirito imprime in noi il linguaggio dell'amore perché questo regno di Dio il pezzo del paradiso è sempre più vicino a noi il Signore è con noi a noi spetta la conversione credere nella parola di salvezza noi siamo il suo popolo greggio che egli guida lasciamoci guidare dal Signore e meandre di questo mondo per portare abbondanza di doni un abbraccio fraterno a ciascuno di voi buona e santa domenica ci vediamo domani per il nostro appuntamento grazie a tutti